Bentornati sul mio canale YouTube DentalCare. In questo video andremo a parlare delle cause dei cosiddetti disordini temporomandibolari o disordini cranio-mandibolare. Nei video precedenti, che vi invito a vedere, li trovate anche sulla mia playlist di miatologia, ho parlato appunto dei muscoli masticatori, dell'anatomia dell'articolazione temporomandibolare e dell'epidemiologia dei disordini cranio-mandibolari, cioè di quanto questi effettivamente siano diffusi all'interno della popolazione. Abbiamo visto che la maggiore incidenza si registra appunto nel sesso femminile. Ma per quanto riguarda le cause dei disordini temporomandibolari e cosa sono i disordini temporomandibolari per chi non lo sapesse, vedilo negli altri video sul mio canale al quale ti invito anche ad iscriverti, ma in buona sostanza non sono altro che dei disturbi, delle condizioni cliniche caratterizzate appunto da problematiche a carico o dei muscoli masticatori o delle articolazioni temporomandibolari, che sono quelle articolazioni che ci permettono appunto di parlare, masticare, eccetera, eccetera, eccetera. In buona sostanza l'articolazione della bocca e possiamo appunto avere a carico di queste strutture anatomiche la presenza di dolore, la presenza di limitazioni funzionali come per esempio una ridotta apertura della bocca, oppure anche per esempio la presenza di rumori articolari come il cosiddetto famoso click alla mandibola. Però sono un insieme di fattori, possiamo avere anche un dolore a carico dei muscoli masticatori e così via. Le cause di ciò non sono mai ascrivibili a un singolo fattore, cioè è difficile capire in maniera specifica quale sia la causa. Innanzitutto va detto che sono appunto dei disordini muscoloscheletrici e non occlusali e non è riconducibile di solito l'insorgenza di questi tipi di disturbi ad un singolo fattore noto, ma appunto si parla di più fattori che insieme cooperano tra virgolette come una squadra e concorrono nel determinare i disordini o disturbi cranio-mandibolari. Si distinguono infatti come vedete fattori inizianti, fattori predisponenti, fattori perpetuanti, traumi e così via. Cominciamo a vedere i fattori inizianti, come dice il nome stesso sono quelli che causano l'inizio dei disordini temporo-mandibolari, quelli predisponenti incrementano il rischio di questi ultimi, quelli perpetuanti agiscono sulla progressione degli stessi. Molto spesso i traumi appunto sono riconducibili all'insorgenza di disordini cranio-mandibolari. Nell'ambito dei traumi distinguiamo i macro-traumi e i micro-traumi. I macro-traumi sono per esempio quelli che si possono avere a seguito di un incidente stradale, il classico colpo di frusta per esempio. I micro-traumi invece sono dei piccoli traumi ma appunto che sono ripetuti nel corso del tempo e praticamente un esempio possono essere appunto coloro che fanno sport come la pesca subacquea o i suonatori di strumenti a fiato o coloro che tendono appunto a serrare i denti, il cosiddetto bruxismo. Questo ripetuto nel tempo ovviamente danneggia l'articolazione. Se sei interessato ad approfondire di più sul bruxismo vai nel mio canale sulla playlist di gnatologia e vatti a vedere appunto i vari video che ho fatto sul bruxismo anche. I traumi possono essere anche diretti quando appunto abbiamo un colpo sulla mandibola sui denti o indiretti quando appunto il trauma avviene a distanza rispetto alla sede anatomica che sono appunto i denti o la mandibola, avviene a distanza e si ripercuote però appunto sulle strutture del sistema stomatoniatico e quindi appunto un colpo alla cervicale per esempio, il classico colpo di frusta che si ha appunto durante gli incidenti stradali. Poi qui appunto vengono annoverati anche i fattori scheletrici per esempio delle malformazioni scheletriche. Secondo alcuni autori sembrerebbero appunto predisporre l'insorgenza tra virgolette dei disordini cranio-mandibolari, ma su questo diciamo ci sono parecchie controversie cliniche, non c'è stata ancora una conferma ufficiale riguardo a ciò. Per quanto riguarda il ruolo dell'occlusione, cioè di come chiudono i denti, in passato su questo aspetto si dava appunto molto più peso, si dava molta più importanza. Al giorno d'oggi invece i vari studi scientifici praticamente mettono in evidenza come i fattori occlusali, è chiaro che c'è una controversia clinica, cioè non tutti sono d'accordo, però è stato visto che i fattori occlusali hanno un'incidenza relativamente bassa sui disturbi o disordini cranio-mandibolari, tant'è che molti appunto ritengono addirittura che non c'entrino proprio nulla, quindi che non siano la principale causa. Poi abbiamo appunto i fattori sistemici, quindi patologie endocrine, patologie degenerative, effettive, metaboliche, neoplastiche, neurologiche, reumatologiche, vascolari e poi i fattori locali, tipo l'efficienza masticatoria, il grado di tensione dei muscoli masticatori o dei muscoli cervicali e così via. Sui fattori genetici sono stati invece fatti diversi studi ed è stato visto appunto che c'è un gene che codifica per le catecol metiltransferasi, il cosiddetto gene COMT, che è associato, se ha una particolare variazione questo gene, ad una maggiore incidenza di dolore severo, perché spesso coloro che hanno disordini temporomandibolari hanno appunto dolore. Poi abbiamo anche i cosiddetti fattori psicosociali e su questi diciamo la letteratura scientifica pone di più l'accento, cioè secondo la letteratura scientifica sono questi ultimi a essere molto più importanti, cioè lo stress, l'ansia e così via, perché appunto la psiche è strettamente correlata con la mente, ma questo chiaramente è un discorso a parte, che non approfondisco in questo video perché appunto è proprio oggetto di un video a parte è proprio il cosiddetto capitolo dell'asse 2 del dolore orofacciale. Con questo video sulla eziologia dei disordini cranio mandibolari io ho terminato, ci vediamo poi nel prossimo video in cui vi farò appunto un quadro generale di quelli che sono appunto i disordini cranio mandibolari. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, se sei arrivato fino a questo punto del video ti invito appunto anche a condividerlo e ti ringrazio e ti ricordo ancora una volta di iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!